buonasera a tutti amici padelisti oggi abbiamo due ospiti di eccezione emily stellato e alessandro tinti ciao ragazzi ciao attualmente siete per quanto riguarda la classifica fit italiana emily la numero 3 in classifica are tu sei il numero 5 è uscito anche un articolo sul corriere dello sport dove ti è inserito fra le dieci promesse o comunque fra dieci giocatori che negli anni farà meglio nel mondo dei padel speriamo se scaramantico porti bene questo è il corriere dai speriamo ok emily tu sei stata una grandissima tennista è stata una giocatrice under tra le più forti della tua generazione 93 per quanto riguarda la tua classifica in doppio quindi la giornata wikipedia che ti dà come 162 e invece per la classifica in sincola si è stata 364 e vinto due titoli tf tutto corretto tutto corretto assolutamente emily tu adesso sei a milano e tu sei sempre a roma giusto chi ti muove da roma no nessuno proprio neanche nick quando avete vinto ti ha fatto proposte per venire a milano ma ogni tanto ci sono andato volentieri dai ora cominciamo l'intervista sarà molto semplice molto diretta ci saranno 10 barra 11 domande non parleremo soprattutto del vostro rapporto con il padel ok e penso che sia ottimo quindi prima domanda entrambi arrivate dal tennis emily come è conosciuto il padel ale come conosciuto il padel per garanteria comincia emily ai l'ho conosciuto perché al circolo dove lavoravo insegnavo tennis è arrivato il padel e all'inizio però non ne volevo proprio sapere mi hanno invitato a giocare e un pochettino e poi alla fine mi hanno chiesto di fare la squadra e ho accettato e messo piedi in campo mi è piaciuto ho trovato fighissimo quindi è stato subito amore al alice ti è piaciuto subito a differenza di altre tenniste passate a padel che invece sono dovuti abituare sì no subito subito proprio colpo di fulmine ottimo ale poi pizza io e pizza stavo in vacanza per sbaglio ho visto i campi da padel ho detto perché non provare e ho iniziato lì poi ovviamente pian piano abbiamo iniziato anche anche a roma che c'era un campo vicino al circolo dove giocavo io a tennis e poi da lì in poi è stato solo un boom di campi qui a roma sì infatti adesso 164 può essere più o meno di centri padel una cosa del genere numeri da da fuori giri proprio anche a milano adesso la situazione sta sta cambiando nel senso ormai anche quest'anno apriranno altri tre quattro centri secondo voi nei prossimi due tre anni dove arriverà il padel in italia a livello di strutture o di giocatori no no parliamo proprio di movimento quindi strutture persone che giocheranno il padel in spagna attualmente per fare un paragone con con i cugini più vicini e secondo sport dopo il calcio secondo me anche qui continuerà lo sviluppo in pieno ovunque ti giri o comunque parli tutti fanno padel o vogliono creare campi e si stanno aprendo anche scuole per per i ragazzi iniziano che si iniziano a avvicinare a questo sport quindi e aumenterà sicuramente l'interesse per questo sport sì nel senso i campi da qui a cinque sei anni per me aumenteranno ancora e ci sarà una crescita ancora espotenziale e e quindi è solo andremo avanti e vedremo quello che succederà quanto è importante secondo voi quello che sta facendo sky nel senso trasmettere ora in diretta gli slam più importanti e quindi far conoscere al grande pubblico e dare così tanto spazio al gioco del padel la visibilità importantissima quindi sky comunque è un emittente molto importante anche se ha tolto dello spazio a quello che era youtube mi sembra e comunque era più seguito quindi non in questo ha preso un'altra parte un'altra fetta del di gente ma forse ne ha persa qualcuno vale ovviamente sky è enorme grandissimo quindi ovviamente fa fa solo che bene al al padel domanda invece questa c'è un po tecnica è meglio conoscere padel arrivando dal tennis oppure arrivare da totalmente un altro sport allora diciamo che se uno inizia da niente e da una parte è meglio perché non hai nessuna nessun gesto da modificare nessuna nessuno schema e pregresso però su alcune cose secondo me come nel mio caso penso anche quello di di ale venire dal tennis può aiutare almeno per quanto riguarda il gioco al volo sono perfettamente d'accordo con con emily nel senso chi comincia da zero non non deve non deve eliminare nessun movimento nel senso è un movimento che può acquisire acquisire prima mentre chi viene dal tennis e sta all'inizio li vedi fare sempre il dritto in top e quello ci metterà un pochino più di tempo a levarlo però sì ovviamente poi il tennis abbastanza simile al padel quindi più vai avanti più il livello sale per me più più devi venire dal tennis come si diventa professionisti nel vostro sport come siete voi e quante ore al giorno si dedicano al padel non da maestro nel caso di di ale ma proprio da giocatore ovviamente più si pratica meglio è diventare professionisti ancora ad oggi diciamo che non richiede tantissimo tempo ma più si andrà avanti più sarà difficile e per quanto mi riguarda io infatti già incrementato un pochettino gli allenamenti dall'anno scorso a quest'anno e stiamo sulle quattro ore e mezza settimana al momento allora sicuramente come dice emily da qualche anno a questa parte non serve solo giocare ma io pure ho incrementato la preparazione atletica cosa che non facevo forse da da anni da quando ero under a tennis però ovviamente adesso è troppo importante come sta in campo la la fisicità e tutto quindi è è fondamentale allenarsi stanno arrivando gli argentini e gli spagnoli anche molto giovani in italia per fare dicono fare classifica fare i tornei crescere velocemente cosa ne pensate di questo arrivo diciamo quasi in massa è soprattutto per i ragazzi è arrivano poche non è no no infatti ha riferito più a ragazzi è complicata perché queste giovani leve sono brave sono molto brave molto preparati hanno tanta voglia e e mettono in difficoltà i nostri ragazzi alle è vero però dai va bene fa bene nel senso confrontarsi con altri ragazzi pure perché sennò siamo sempre sempre noi quindi fare partite di altro con altre persone e altro livello fa solo che bene sia per un allievo sia per voi giocatori oggi ancora fondamentale andare in spagna per imparare a giocare bene o si può imparare anche in italia con coach sia italiani il gioco del padel diciamo che il confrontarsi fa sempre bene cioè da imparare da tutti quindi è importante trovare comunque una base di appoggio dove dove si sta e ce ne sono comunque parecchi allenatori validi credo al momento e però poter fare degli degli step dei passaggi in spagna credo sia importante allora come ha detto emily si ci sono grandi allenatori che stanno stanno crescendo qui e stanno nascendo qui in italia però io che sono andato in spagna e ci sono stato un po di volte devo dire che lì è un altro ritmo è un'altra è un'altra cosa però ovviamente non è colpa o colpa o de merito dei ragazzi o degli istruttori che stanno qua in italia ma è solo perché spagna è nato è nato molto prima e quindi ovviamente ci sono giocatori di altro livello che ti possono solo aiutare perché le donne quindi parliamo ora di uno scontro uomini contro donne vincono più degli uomini anche di fuori dell'italia e il livello è completamente differente io mi rendo conto anche adesso che ho giocato il world paddle tour e diciamo le nostre pre previa e nostre previa sono completamente differenti da diciamo che le nostre le nostre previa sono le pre previa maschili o anche forse il primo turno di tabellone è le previa maschili quindi insomma c'è quasi in tutti come quasi tutti gli sport alla fine il livello maschile è un po più alto ma anche perché più praticato sì nel senso il livello femminile senza nulla togliere è un pochino più basso io parlavo con dei ragazzi spagnoli che mi dicevano che appunto era più basso il solo pensiero che alcune giovani senza nulla togliere a loro alcune giocatrici fanno primo turno di tabellone o vanno avanti invece noi maschi purtroppo ci fermiamo se ci dice bene al primo turno di pre previa se entriamo poi nelle pre previa perché non è neanche detto che entriamo quindi ma è come ha detto come ha detto emily è un pochino così dappertutto come nel tennis è uguale nel padel oggi anche perché in italia ancora uno sport giovane mantenersi facendo solo il giocatore di padel è impossibile fate tutti i maestri come primo lavoro perché il monte pensiamo credo alle dimmi se sbaglio monte premi open grosso sono 2000 euro a coppia perché vince la finale più o meno giusto guarda se non mi sbaglio il monte premi più alto era a piacenza che era 7.000 ma 3.500 3.500 che ha vinto ha vinto intorno ai 1.200 se non sbaglio diviso due quindi i premi non è che ti fanno campare più di tanto però ovviamente rispetto agli altri anni è sempre è sempre di più quindi voi cosa vi aspettate nel senso vi aspettate più un aiuto da parte della federazione avere un aiuto economico da un ente dagli sponsor è fondamentale secondo voi oggi per crescere anche in italia da giocatori e non solo da maestri beh sì diciamo che non lo so io ci sono passata con il tennis adesso comunque ho questa passione non non ci penso più di tanto nel senso che è un auto investimento perché mi piace mi piace quindi lo faccio a prescindere ma così è stato anche con con il tennis e gli aiuti sono sono pochi diciamo che gli aiuti un po più importanti poi arrivano da quelli che sono gli sponsor sponsor tecnici sì è come ha detto nel senso gli aiuti più importanti arrivano dagli sponsor tecnici dagli amici del circolo da quelli che ti possono aiutare il più possibile certo che la federazione ci potrebbe dare una mano in più perché perché sì però non si sa per quale motivo non ce la sta dando però andiamo avanti così e noi come ha detto emily lo facciamo perché ci piace quindi è è questa la nostra più grande forza dai speriamo che diventi sport olimpico fra si parla 4 8 anni secondo me lì potrebbe essere anche per i giocatori in generazione prossima noi staremo fuori ale ancora dentro dai a quanto 8 anni no la vedo dura beh nick ne ha 38 a 46 no tu dico però tu sì 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 secondo voi quando sarà pronta la prima vera generazione under italiana forte ma questi sono pronostici non si possono fare così potrei dirti dieci anni ok quindi dobbiamo aspettare ancora almeno secondo te altre due generazioni detta cioè ti devo dare un tempo così una tempistica così sì ma direi questo ma anche per me dieci quindici anni prima è difficile questa è una domanda personale che in parte deriva da da una domanda chi vi fa anche andrea di rospadel uno dei ceo di rospadel che è uno dei vostri sponsor tecnici come si sceglie uno sponsor tecnico e cosa può fare uno sponsor tecnico per aiutarvi nel vostro lavoro nella vostra crescita allora come aiutarci è quello che comunque fanno ecco aiutarci economicamente con il materiale che ci forniscono per allenarci per fare tornei e quant'altro come si sceglie si sceglie su io almeno su quello che è il rapporto umano io vado molto a pelle a sensazioni quello che insomma se una persona mi piace e crede in quello che fa sposola la sua causa come ha detto emily nel senso quello che fanno è per fortuna che risponde prima emily quello che fanno è verità bene nel senso per quanto riguarda ci aiutano economicamente quindi è fondamentale quello racchette vestiario e tutto e per quanto riguarda invece come mai ho scelto la causa eros perché no come ha detto pure pure emily io mi sono trovato subito bene abbiamo fatto una chiacchiera di 20 minuti e abbiamo ci siamo legati quindi è stata molto molto facile come scelta questa invece è una domanda che mi ha fatto per voi ragazzi del blog che seguono il mio blog sono tutti malati di racchette più che di padel di racchette cioè cambiano racchette dall'oggi al domani ora c'è la mania delle racchette mi hanno chiesto beh emily tu giochi sia a sinistra che a destra ha le tue a sinistra loro mi hanno chiesto come si sceglie cioè voi come scegliete le vostre racchette in base a quali caratteristiche le pale che il più corretto vale a me piace ad esempio una racchetta che mi aiuti a spingere quindi io mi regolo sentendo la palla sulla racchetta e vedendo quanto mi esce il colpo con la facilità con la quale sento uscire la palla io invece esattamente il contrario per me una racchetta deve essere morbida maneggevole la devo sentire tanto dall'alto veloce non veloce rigida non rigida la palla a me non mi va quindi è meglio sentirla un pochino di più dal basso che che dall'alto ultime due domande allora il calciato ormai c'è il binomio calciatori padel che è stata si può dire anche una fortuna per il nostro sport da quando sono entrati i calciatori nel mondo del padel c'è stato il boom ale tu hai giocato candela totti dei rossi e totti in un'intervista ha detto sono tutti se no sì no no la faccia che era che sono arrabbiata perché anch'io volevo giocare con totti a per quello totti ha detto in un'intervista se parli con i giocatori di calcio sono tutti forti a giocare a padel la tua classifica ale invece tu che ci hai giocato totti è più forte di tutti come dice o se sono tutti lì questa speriamo che non la vede perché se no me cancela dappertutto no comunque dai francesco gioca gioca bene e altri due che giocano molto bene che sono molto partitari sono fiore giannichetta che ogni lunedì mattina sfidano il mio boss davide bonore ogni lunedì mattina lo segano forte e chiaro quindi giocano bene anche loro però pure francesco gioca molto bene dai ora per emilie per ale una classifica emilie nel tuo caso delle donne ale nel tuo caso degli uomini dei tre vostri giocatori italiani quindi del circuito italiano preferiti ah non si può fare il contrario io i maschi più dice le femmine vuol dire anche sia i maschi che le femmine quindi allora è noi tutti e due sentire anche ale però ma devo iniziare io io quelli i primi tre che stanno in classifica non dico i miei preferiti però quelli i primi tre quindi capitani cremono e il terzo che è bruno bruno ah però questa è un po scontata emilie di la emilie invece tu allora viene più facile la bella sì più facile no però diciamo che i miei maschi preferiti come gioco sono vabbè il mio anche compagno di misto di giovanni e cremona e poi il terzo è il terzo se la giocano eh la giocano qualcuno se la gioca vabbè metto è difficile il terzo ragazzi non lo so dai posso ne sono due no dai uno il primo che ti viene in mente boh dai mici bruno vabbè mi dico anche i miei uomini anche ci metto una questione di simpatia digio per perché l'ho visto giocare le prime volte aveva fatto dei video a city life insieme ad oggi secondo me è quello che è cresciuto di più dagli negli ultimi due anni cioè dagli inizi ad oggi è quello che mi ha impressionato di più e come donne emili ma non perché oggi perché non è una paraculagine e la carol perché io la conoscevo da la vedo spessissimo la conoscevo da tenista ed era fortissima giocava con gli uomini e li stracciava e anche nel padel è molto forte e a me la chiara non dispiace come come terza donna a me come donne vabbè secondo me giulia è fortissima riesce a fare veramente la differenza e poi anche chiara e poi metterei vabbè la mia compagna vale quindi i nomi sono usciti ragazzi io vi ringrazio tantissimo per questa bella chiacchierata spero che vi siete trovati bene benissimo grazie a te speriamo di vederci Ale al David se vieni con Nick finita sta pandemia va bene di rivederci Emily speriamo di rivederci a Milano ok anche a te al David in qualche torneo e vi ringrazio ancora grazie ragazzi ciao tu ci sei a Roma mercoledì ci vediamo? con me? eh sì sì ah ok va bene va bene ci vediamo mercoledì ok se avetevi d'accordo quindi l'intervista ciao ciao ragazzi buona serata ciao ciao